6 agosto ore 20 Sirolo, si parte prima parte in discesa verso la spiaggia e poi su Conero e poi il mare, credo sia il primo video dove si vede il mare, non è così vicino almeno a presto a presto a presto Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.